I carabinieri della compagnia di Cefaluco adiuvati nelle fasi esecutive dai colleghi di Frascati hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Merese su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di un sessantenne originario della provincia di Agrigento, da anni residente a Roma e già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di furto in abitazione. L'attività investigativa condotta dai militari della stazione di Campo Felice di Roccella e della sezione operativa della compagnia di Cefalu scaturisce dal furto che l'indagato avrebbe commesso a Campo Felice di Roccella nel dicembre 2023, accedendo con una scala a una finestra al primo piano di un edificio dove avrebbe sottratto una cassaforte con all'interno due fucili da caccia e oltre 20.000 euro in contanti. L'indagine dei carabinieri, avviata nell'immediatezza dei fatti, ha consentito anche mediante un attento sopra al luogo dell'area interessata dall'evento criminale di acquisire importanti elementi suffragati dal successivo sviluppo investigativo. L'indagato, di fatto irreperibile dallo scorso luglio, è stato localizzato e tratto in arresto mentre si trovava in uno studio dentistico nel quartiere di Torbella Monaca a Roma. è stato poi tradotto presso il carcere Capitolino Regina Celi in attesa dell'interrogatorio di garanzia.